salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo ragazzi è l'intro di un video che vedrete tra poco è un piccolo video una sorta di parodia che ho voluto fare è una cosa un po particolare non è niente di quello che siete abituati a vedere qua sul canale anche se l'argomento è quello che vedete spesso qua sul canale con l'uscita del dj mavic 3 come sapete veramente la gente si è presa malissimo perché dj ha rilasciato questo drone che costa tantissimo che è il drone di punta di casa dj con appunto un aggiornamento firmware troppo acerbo con tantissime funzioni anche diciamo semplici che mancano e un sistema di rilevamento degli ostacoli che non funziona benissimo quindi tutto questo ha scatenato l'arrabbiatura chiamiamola così di tantissimi utenti sia che l'hanno acquistato che di utenti che lo volevano acquistare ma magari hanno rinunciato adesso perché mancano tutte queste funzioni poi magari lo compreranno in seguito quindi ho deciso di fare questa parodia riguardante dj mavic 3 ho fatto trattare questo argomento da un genio della tecnologia da tony stark quindi ragazzi mi raccomando se il video dovesse piacere vi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler voli fpv stampe 3d sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3 conferte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube ma adesso ragazzi vi lascio questa piccola parodia di circa un minuto e mezzo riguardante il dj mavic 3 trattata da tony stark ragazzi buona visione cosa dovrei temere gli eroi più forti della terra roba simile sì li ho conosciuti ci mettiamo un po a riscaldarci questo te lo concedo ma facciamo la conta dei presenti il semidio un super soldato una leggenda vivente che vive nella leggenda un uomo con grossi problemi nel gestire la propria rabbia un paio di assassini provetti e tu belli gusto sei riuscito a far incazzare tutti quanti era questo il piano non è un granché quando verranno e lo faranno verranno per te non esiste una versione in cui tu ne uscirai trionfante e come potranno i tuoi amici pensare a me mentre combattono di di solito funziona può capitare di fare cilecca 6 non è così raro una volta su cinque vi piegherete tutti al mio cospetto